Ragazzi, ditemi che non c'è nessuno qua nel ponte di Albiano, che è appena caduto il ponte. Sono le 10.20, un boato e crolla il ponte sul fiume Magra, tra Albiano e Caprigliola nel comune di Aulla, al confine tra Toscana e Liguria. Si è cartocciato su se stesso, completamente distrutto. Un furgone che stava transitando precipita. Il conducente rimane ferito, è ricoverato in codice giallo. Lo scarso traffico dovuto al decreto per l'emergenza coronavirus ha evitato che fossero coinvolti molti mezzi che fosse una strage su un ponte normalmente usato da migliaia di pendolari. Nei mesi scorsi una crepa aveva fatto scattare alcuni controlli da parte delle autorità. Sul posto del crollo ci sono i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e i pompieri. Il ponte, sbriciolandosi, ha rotto una condotta del gas. Ma c'è gente qui?